E allora lo avete sentito dai nostri titoli, l'uomo del giorno nei nostri studi, proposta di un governo di l'argentese, buonasera al leader dell'Udc, Pierferbilando Casini. Comincio subito però col chiedere, abbiamo sentito la vicenda che riguarda il sottosegretario Cosentino, quello che le chiedo è se voterete la mozione di sfiducia contro di lui. Guardi, noi l'abbiamo già presentata una volta la mozione di sfiducia contro Cosentino, pensando soprattutto a un problema di opportunità, perché noi siamo garantisti, ma esiste un problema di opportunità per chi si è del governo. L'abbiamo votato già una volta, per cui non avremo esitazioni, penso a farla la seconda, bisognerà che lo decidano i deputati dell'Udc, ma questo credo è la realtà. Allora Casini, che voce che abbiamo ascoltate? Non abbiamo ascoltato un sì. Per fortuna, perché il buonsenso di solito in questo paese è in minoranza. Le voglio fare una battuta, credo che se invece di aver detto, e l'ho detto nei confronti degli elettori italiani che in maggioranza hanno votato Berlusconi, cioè per un rispetto verso chi non ha votato me, ma ha votato Berlusconi, non ha votato Veltroni, ma ha votato Berlusconi, e questo non è insignificante in democrazia, se invece di avere detto che non escludevo l'ipotesi che potesse presiedere Berlusconi, avesse detto lo potrebbe presiedere Tremonti, tutti quelli che hanno parlato, prima che abbiamo ascoltato nel servizio, da Enrico Letta a Franceschini a, non so se anche Di Pietro, avrebbe probabilmente cambiato parere, avrebbe detto sì. Questo la dice lunga sul fatto che oggi abbiamo un'opposizione fuori dal gioco, che gioca di rimesse, ha destato più fibrillazione nella maggioranza, la mia partecipazione a una cena, piuttosto che dieci manifestazioni del popolo viola o del Partito Democratico, che la dice lunga sulla difficoltà che c'è a creare un'alternativa, il Paese non va, il Paese non riesce ad essere governato da questa maggioranza, ora capisco che chi sta nella maggioranza abbia la sindrome di autosufficienza, ma chi sta all'opposizione deve prospettare una via d'uscita credibile, non solo salvarsi la coscienza dicendo che tutto va male, perché se no le cose andranno ancora peggio e rimarranno così. Lei alla luce di questa giornata mi riconferma che l'Udc non andrà all'interno di questa maggioranza, in ogni caso. Scusi, è offensivo da un lato, moralmente, ma è ridicolo anche sotto il profilo della convenienza, io non credo che in una maggioranza che sta dimostrando di avere 100 voci, nessuna bussola di orientamento ci può essere qualche tentazione da parte dell'Udc, l'Udc è un partito serio, aggiunge un posto a tavola e non ci interessa, questo è un problema che vale per altri, l'Udc è l'unico partito italiano che Ribaltoni non ne ha mai fatti, Bossi li ha fatti e ha mandato a casa Berlusconi, io non l'ho mai fatto e non intendo di cominciare ad oggi, io credo solo che questo paese stia andando nel fosso e più tardi ne avremo una consapevolezza comune e peggio sarà per gli italiani. Abbiamo una battuta davvero finale, l'argentese con che limite? C'è un limite, PD si va oltre PD, si va l'Italia dei valori? All'argentese c'è una sola condizione, che si faccia veramente grandi riforme, che si parli al paese anche un linguaggio impopolare perché per risolvere i problemi non basta fare spot. Allora il limite non c'è, grazie all'onorevole Casini.